La Regione Puglia ha approvato d'urgenza il secondo masterplan dei giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, ma il presidente Emiliano spara a zero sul commissario ferrarese. Il documento dice che non è stato minimamente concordato. Ferrarese risponde, apprezzo l'ironia balneare del presidente, riferita sicuramente a chi c'era prima di me. Per il sesto anno consecutivo Ina e Le Cinzella insieme per sensibilizzare i cittadini contro gli infortuni sul lavoro ed è anche l'occasione per fare il bilancio dall'inizio dell'anno a oggi. Siamo tornati al quartiere San Giovanni a Manduria con il residente ed ex politico Marco Barbieri. Sempre lui ha raccontato ai nostri microfoni che cosa vuol dire vivere a poche centinaia di metri da tre discariche. Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione provinciale di Antenna Sud dedicata a Taranto, Brindisi e Lecce. L'avete sentito dai titoli, partiamo con il capoluogo ionico. La regione Puglia ha approvato d'urgenza ieri sera il secondo masterplan dei giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, ma il presidente Emiliano spara a zero sul commissario ferrarese. Il documento dice che non è stato minimamente concordato. Il primo servizio. La regione Puglia ha approvato d'urgenza il secondo masterplan dei giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 dopo una giunta straordinaria durata dalle 19.30 alle 20.30 di martedì 6 agosto. Ma Emiliano spara a zero in una nota spiega di aver proceduto su presente richiesta del governo. Il via libera, dice il governatore, arriva su un programma di interventi redatto dal commissario ferrarese con grave ritardo e non concordato in via preventiva con la regione, nonostante la recente sentenza della Corte Costituzionale, rende obbligatorio il parere della regione stessa per l'individuazione delle opere infrastrutturali e quindi per l'organizzazione dei giochi. La scelta di approvare comunque il masterplan prosegue. Non supera le differenze di metodo che contraddistinguono il commissario e il nuovo comitato organizzatore nelle criticità rilevate della regione che aveva chiesto di finanziare per intero il progetto del centro nautico alla ex stazione Torpediniere, la palestra di quartiere a Paolo VI e di integrare le risorse per le attrezzature sportive. I giochi, ricorda Emiliano, oggi esistono grazie all'idea, alla volontà e all'impegno che la regione Puglia ha messo in campo su Taranto dal 2019 per candidarla a questo importante evento sportivo e ritiene di essere stato messo di fronte al fatto compiuto. Il presidente della regione auspica che commissario e comitato cambino atteggiamento e che le fondamentali opere che allo Stato sono state cancellate siano reintrodotte. La regione Puglia conclude e resterà al fianco di Taranto. Essendo il governatore Michele Emiliano persona di spirito, immagino che le ulteriori ennesime dichiarazioni su presunti ritardi nell'organizzazione dei giochi del Mediterraneo che egli attribuisce al sottoscritto siano solo modo ironico per evidenziare come in soli sei mesi io abbia fatto fronte ad un ritardo di quattro anni e mezzo che aveva convinto il comitato internazionale addirittura a far traslocare la manifestazione da Taranto e dalla Puglia e quanto dichiara il commissario straordinario del governo e presidente del comitato organizzatore dei giochi del Mediterraneo Massimo Ferrarese. Solo una persona spiritosa come Emiliano potrebbe tentare di rimodulare il significato della sentenza della Corte Costituzionale sostenendo che il sottoscritto debba preventivamente concordare con lui l'individuazione delle opere infrastrutturali dei giochi. La consulta, sottolinea Ferrarese, è invece stabilito che sulla scorta dei muscle plan che restano mia prerogativa il governo e la regione debbano poi trovare l'intesa cosa che sta avvenendo come dimostra la delibera della regione cui Emiliano fa riferimento. Apprezzo l'ironia balneare del governatore sicuramente indirizzata a chi prima di me ha fallito clamorosamente ma ora bisogna completare il lavoro. Il 2026 si avvicina, queste ovviamente le dichiarazioni di Massimo Ferrarese. Voltiamo pagina, sono iniziati a Lama nella zona di via Pesce Cane i lavori per la realizzazione della condotta idrica. Un'opera accolta con soddisfazione dal consigliere regionale e comunale Vincenzo Di Gregorio che ha seguito l'iter della vicenda. Vediamo. Sono cominciati in via Pesce Cane a San Vito i lavori per la realizzazione dell'impianto idrico. Un risultato salutato con soddisfazione dal consigliere regionale e provinciale del PD, Vincenzo Di Gregorio che ha seguito la vicenda dall'inizio scrivendo nella 2021 una lettera all'autorità idrica pugliese per chiedere l'esecuzione dei lavori. Ma non è finita Di Gregorio Punta adesso alla realizzazione anche della condotta fognaria e annuncia l'impegno per portare l'acqua pubblica in altre 100 strade del territorio di San Vito e Lama. Finalmente dopo la richiesta che ho fatto un paio di anni fa siamo riusciti ad aprire il cantiere ieri mattina. Passerà il nuovo servizio idrico, queste persone sono senza acqua e senza fogno come tante altre strade qui a San Vito e Lama Tarsano per cui sono contento e orgoglioso di aver raggiunto questo risultato e chiaramente questo fa parte di un progetto ben più ampio che sto seguendo. Sono tutte strade che sono rimaste fuori dai grandi lotti che sono stati effettuati negli ultimi anni. Mi sono accorto con un lavoro metodico che mancano un centinaio di strade e mi sto applicando affinché tutte vengano raggiunte da acqua e fogna. Poi passeremo a via Scampi e via De Falco e proprio ieri posso annunciare che è stata fatta la richiesta per gli scavi su via Lucerne e via Narcisi. Chiaramente io non mi fermerò qui perché con questo lavoro tendo a portare tutti i servizi in tutte queste strade. Ora ci spostiamo a Manduria dove siamo tornati al quartiere San Giovanni con il residente ed ex politico Marco Barbieri. Sempre lui ha raccontato ai microfoni di Antenna Sud che cosa vuol dire vivere a poche centinaia di metri da tre discariche. Marzia Baldari. C'è un quartiere in provincia di Taranto che lista circa 750 metri da tre discariche. L'attiva Manduria Ambiente, quella di Smessa, Licicci e l'impianto di compostaggio Eden 94. Siamo a Manduria e il quartiere si chiama San Giovanni. Questo è il quartiere in patologie, questo è il quartiere San Giovanni di cui abito anch'io. È un drammatico appellativo quello che ci svela Marco Barbieri, residente in questo quartiere ed ex consigliere comunale. Con lui avevamo già fatto un sopralluogo alle vicinissime discariche e sempre lui ci aveva parlato di diversi casi di tumori alle vie respiratorie e al cervello, proprio tra i residenti del borgo San Giovanni. Gli abbiamo chiesto cosa significa vivere in questo quartiere a poche centinaia di metri dalle discariche. Abbiamo paura che arrivi la puzza, non si può stare per questo cattivo odore. Noi passiamo tanto tempo dentro casa, con le finestre chiuse. Non ci possiamo proprio permettere di stare cinque minuti fuori. Che significa stare fuori, per dire, raccontiamolo. Devi pensare che mia figlia ha 12 anni, l'ho comprata quando aveva 6 anni la bici da mio suocero e non sa andare in bici, perché non si può permettere di uscire fuori, sia per la nausea della puzza o per questo che si sente. E non sa andare in bici mia figlia, perché noi passiamo più tempo chiusi in casa. Se viene qualcuno a trovarci, dopo un po' lo senti tossire e senti Ma come fate a stare qua? E sta cosa mi dà anche fastidio, perché no? Sentirsi, ma come fate a stare qua? Come fate a stare qua? Mi vergogno, mi vergogno. Quella degli abitanti di San Giovanni è una quotidianità fatta di disagi e molte rinunce, una vita condizionata dai nauseabondi odori e la maledetta vicinanza con le discariche. È finito tutto per noi. Cambiamo decisamente argomento. Il segretario nazionale dell'Udc, Lorenzo Cesa, ha nominato l'onorevole Gianfranco Chiarelli come commissario regionale del partito in Puglia. La decisione è stata comunicata attraverso una nota ufficiale della segreteria nazionale che ha annunciato una riorganizzazione interna mirata al rinnovo degli assetti organizzativi nei territori convolti nelle prossime elezioni. Chiarelli ha accettato l'incarico con senso di responsabilità, esprimendo gratitudine verso Cesa per la fiducia riposta in lui. Segnalazione molto importante alla nostra TV, ad Antenna Sud, quindi abbiamo raccolto ancora una volta la segnalazione di alcuni cittadini e ci siamo ricati in piazza Mercato con Laura Milano. Questa non è una discarica, è il luogo in cui le vostre segnalazioni hanno portato le nostre telecamere. Siamo a Taranto, in via Toscana, dove i residenti lamentano una situazione di grande degrado proprio nei pressi del mercato comunale. Alla chiusura alle 14, anche pure prima, vengono svuotati solamente i cassonetti, ma i cassonetti e basta, tutto il resto rimane così com'è, non viene toccato niente. E poi la sera alle 23 viene rifatto di nuovo lo svuotamento dei cassonetti, ma i cassonetti non vengono mai lavati. I liquidi per terra puzzano e sono maleodoranti e non sappiamo più cosa fare. Qui se pulisci oggi, domani mattina ritroverai le stesse cose, perché una discarica ce l'ha aperta, tutti vengono e lasciano tutto, materassi, mobili, infissi, tutto quello che hanno. A questo punto mettete una telecamera, già che state facendo le multe, mettete una telecamera e controllate chi butta l'immondizia la mattina, chi viene a lasciare queste cose, però così non si può andare avanti. Altro problema, questo divieto, che rappresenta un grande disagio per le attività commerciali e anche per i residenti. Ci sono attività commerciali che hanno bisogno dell'ingresso e l'uscita dalle macchine, oltre anche ai residenti, che non sanno come fare, perché qui puoi entrare anche volendo dopo le 20, però non puoi uscire, non puoi uscire perché il mercato è tutto bloccato. E per concludere, la situazione è marciapiedi. È impercorribile la gente anziana, da tutti, ci vorrebbero le strade, i barciapiedi nuovi, perché rischiano di cadere, ci sono troppe buche, quindi. Per il sesto anno consecutivo, Inail e Cinsella insieme per sensibilizzare i cittadini contro gli infortuni sul lavoro, ed anche è stata l'occasione per fare il bilancio di quanto accaduto dall'inizio dell'anno fino ad oggi. Vediamo. Una battaglia senza sosta per combattere gli infortuni sul lavoro e in itinere l'incidenza delle malattie professionali è ancora in aumento nella nostra regione. L'Inail Puglia intensifica le iniziative per la diffusione della cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro e conferma la propria collaborazione con il festival musicale Cinsella, quest'anno in programma a Taranto dal 15 al 17 agosto sulla Rotonda del Lungomare. Una felice opportunità, ma anche una impellente necessità, nei primi sei mesi del 2024 gli incidenti sul lavoro in Puglia sono cresciuti del 2,67% rispetto all'anno precedente, aumentano anche le denunce per malattie professionali, più 33,20%, colpisce il numero di denunce a Taranto, 1563, più del doppio di Bari. La conferma della proficua collaborazione tra Inail e Afosei, società organizzatrice del Cinsella, è stata presentata nella sede ionica dell'istituto. Anche quest'anno uno stand Inail sarà presente in tutte le serate per la campagna informativa a Capatosta. La battaglia della sicurezza si vince anche attraverso un rapporto sinergico, empatico, con chi, come i ragazzi di Afosei, intendono lavorare su questo settore. La sede vuole fare molto di più, diffondere la cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro, anche attraverso la contaminazione della nostra attività istituzionale con momenti di intrattenimento. C'è maggiore consapevolezza sull'origine lavorativa di talune e patologie. Inail abbiamo deciso in questi anni di costruire un progetto molto importante, quindi rendere la tematica della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro una tematica trasversale che abbraccia a una forbice detta di sempre più lara. Taranto dice no al ritorno dell'installazione degli euromissili, a lanciare l'allarme di una possibile escalation e di una guerra nucleare, il Comitato per la Pace è proprio del capoluogo ionico. Sentiamo. L'incubo di una guerra nucleare torna a fare paura, un messaggio che parte da Taranto da sempre individuata come possibile bersaglio di testate atomiche in caso di conflitto per la presenza di un quartier generale HRF Nato. L'allarme è stato lanciato dal Comitato per la Pace di Terra Ionica in una partecipata assemblea presso il circolo Archie Gagarin. Lo scorso 10 luglio in Sordina un comunicato della Casa Bianca ha annunciato l'intento di installare un omissile in Germania a partire dal 2026, una pericolosa marcia indietro rispetto allo smantellamento degli armamenti realizzato con l'accordo Gorbachev-Regan del 1988, un rischio che l'arcipelago pacifista vuole sventare pronto a nuove iniziative. Noi ci mobilitiamo in anticipo, non dobbiamo arrivare al 2026 con cose già fatte ma vogliamo far raccontare l'opinione pubblica. Noi abbiamo vissuto gli anni del disarmo e ne abbiamo beneficiato. È una lotta per il futuro, è una lotta di responsabilità verso le future generazioni e soprattutto è una lotta di autoconservazione. La città di Taranto era proprio uno dei target per cui venivano calcolati anche decine di migliaia di morti. È solo un primo passo perché questa è una prima riunione per incontrarci e sviluppare questa campagna contro gli euromissili. Si è svolto nel carcere di Brindisi l'interrogatorio di garanzia del giovane di Petteri Greco arrestato per omicidio stradale del 25enne di San Vito de Normanni Andrea Catamarò sabato dopo l'autopsia, i funerali della vittima. Accusato di aver ordinato dal carcere una lunga serie di attentati ai danni della famiglia e della sua ex, il boss Sku Christian Tarantino è rimasto in silenzio davanti al jeep. Via la gabbia protettiva in plastica dal busto che raffigura Gandhi dopo quasi due mesi di attesa la statua donata dall'India al comune di Brindisi è stata inaugurata. Dunque edizione dedicata a Brindisi e provincia si è svolto questa mattina nel carcere della capologo Messapico l'interrogatorio di garanzia del giovane di Pezze di Greco arrestato per l'omicidio stradale del 25enne di San Vito de Normanni Andrea Catamarò sabato mattina l'autopsia e poi i funerali. Michele Iurlaro. Si è svolto questa mattina nel carcere di Brindisi l'interrogatorio di garanzia del giovane di Pezze di Greco arrestato per l'omicidio stradale del 25enne di San Vito de Normanni Andrea Catamarò ucciso da un'auto pirata che dopo l'impatto aveva proseguito la sua corsa. La vittima aveva trascorso la serata di domenica in un lido della costa ostunese località Pilone in compagnia di alcuni amici intorno alla mezzanotte il dramma la Mercedes che secondo la ricostruzione degli agenti del commissariato della città bianca era guidata dall'indagato aveva travolto lo sfortunato Catamarò morto sul colpo le indagini dei poliziotti nel giro di poche ore avevano poi individuato e rintracciato il 26enne da qui l'arresto, il carcere, il presunto pirata risultato positivo a cannabinoidi e cocaina e accusato di omicidio stradale aggravato e di omissione di soccorso mentre San Vito piange Andrea, giovane conosciuto e stimato l'indagato ristretto in carcere dalla mattinata di lunedì è comparso davanti al GIP gli esiti dell'interrogatorio saranno noti nelle prossime ore sabato pomeriggio dopo l'autopsia saranno celebrati i funerali di Catamarò Accusato di aver ordinato dal carcere una lunga serie di attentati ai danni della famiglia della sua ex il boss della Sacra Corona Unita, Cristian Tarantino è rimasto in silenzio davanti al GIP Attivissimo nei mesi scorsi su TikTok il 36enne Cristian Tarantino è rimasto muto davanti al GIP scegliendo la via del silenzio di fronte alle accuse contenute nell'ordinanza di custodia cautelare che la scorsa settimana con il nuovo arresto ha cristallizzato le indagini eseguite dalla DDA di Lecce dai carabinieri del nucleo investigativo di Brindisi l'interrogativo fu Tarantino dal carcere dove era già ristretto per reati in odor di associazione mafiosa ad ordinare attentati, intimidazioni e pestaggi ai danni della sua ex e della sua famiglia il teatro è sempre quello di San Pietro Vernotico dove l'indagato, questa l'ipotesi degli inquirenti continuava ad esercitare il suo ascendente criminale impartendo ordini dal carcere di Sulmona è sempre dalla cella che Tarantino via social avrebbe rivolto velate minacce alla giovane donna colpevole di essersi rifatta una vita da qui gli attentati ad una salumeria quelli contro un bar, un pestaggio durante la festa patronale episodi e circostanze su cui forti delle indagini eseguite dai carabinieri resta solo la tesi dell'accusa Tarantino nell'interrogatorio di martedì si è infatti a balzo della facoltà di non rispondere alle domande del GIP Cambiamo argomento e torniamo a parlare della questione relativa alla San Raffaele di Ceglie Messapica ieri un incontro in prefettura tra sindacati vertici dell'azienda ed Asla al termine di questo incontro i sindacati non soddisfatti hanno detto che sono pronti allo sciopero ma sentiamo perché nel prossimo servizio Nonostante le ampie garanzie ricevute dalle istituzioni presenti che continueranno a vigilare sull'operato della struttura sanitaria assicurandosi il mantenimento dei livelli assistenziali la vera nota stonata è stata caratterizzata dal management del San Raffaele che non ha mostrato alcun segnale di apertura e collaborazione in merito alle istanze rappresentate dalle organizzazioni sindacali le quali ovviamente si sono dichiarate insoddisfatte e pronte a intraprendere tutte le azioni di mobilitazione necessarie a tutela dei lavoratori fino ad arrivare allo sciopero lo dichiarano in una nota le segretarie territoriali di FPGGL, CISL, FPWIL e FPL a margine dell'incontro che si è svolto in prefettura a Brindisi sulla vertenza dei lavoratori del centro di riabilitazione sanitaria di Ceglie Messapica San Raffaele diverse sono state le questioni sollevate dai segretari territoriali al management presente che esigevano risposte esaustive in merito al mancato adeguamento contrattuale e al ritardato pagamento delle spettanze stipendiali del personale a partita IVA fermo al mese di aprile nonostante la ASL a Brindisi versi puntualmente al San Raffaele quanto dovuto si tenderà ora fiduciosi l'esito della sentenza del TAR del prossimo 4 settembre che si spera, concludono i sindacati possa restituire al territorio pugliese un'importante risorsa sanitaria gestita direttamente dalla ASL a Brindisi ed ora un'ultima ora a una ufficialità che viene dalla regione Puglia buone notizie per i lavoratori SIR S.P.A. come è noto questi lavoratori rischiavano il licenziamento in realtà sono stati revocati questi licenziamenti e reintegrati 50 lavoratori della ditta SIR dopo lo stop delle attività del sito della centrale Enel di Cerano a Brindisi e quanto contenuto nell'accordo siglato proprio questa mattina nel capoluogo bendisino da regione Puglia con il comitato occupazione SEPAC l'ARPA Puglia, le organizzazioni sindacali e datoriali Enel e SIR S.P.A. per i restanti 23 lavoratori invece si aprirà la procedura per la cassa integrazione guadagni straordinaria potranno finalmente tirare un sospiro di sollievo i lavoratori di SIR azienda dell'indotto della centrale Enel di Cerano a Brindisi che saranno reintegrati così l'assessore Trigiani dà la buona notizia proseguiamo e adesso parliamo delle postazioni di 118 sulla costa a nord e a sud del capoluogo messapico non si tratta però come in passato di servizi di guardia medica ma è utile per l'emergenza urgenza in diretta dalla Marina di Lendinuso andiamo a salutare la collega Anna Saponaro buon pomeriggio Anna Sì buongiorno a te, buongiorno ai nostri telespettatori hai detto bene, parliamo di tutela della salute pubblica nelle marine e soprattutto di interventi in caso di emergenza perché nei giorni scorsi sono stati attivati i servizi le postazioni di 118 nelle marine a nord del capoluogo quindi Torre Canne, Villanova e Torre Santa Sabina ma anche quelle a sud e quindi parliamo di Campodimare e Lendinuso noi siamo proprio nella Marina di Lendinuso in compagnia del sindaco di Torchierolo Elio Ciccarese per avere qualche informazione in più intanto non si tratta di una postazione di guardia medica sindaco ma soltanto di emergenza urgenza quindi postazione di 118 ma sicuramente un servizio importante soprattutto alla luce del fatto che stiamo vivendo il mese più caldo non soltanto sotto il profilo delle temperature dell'estate quindi agosto Sì è un servizio importante chiaramente non si tratta di una postazione di guardia medica come c'è stato negli anni passati ma un servizio di 118 comunque necessario per garantire a tutti i villeggianti a tutti i residenti della Marina di Lendinuso ad avere un punto di riferimento sanitario per qualsiasi tipo di emergenza Noi facciamo avanzare un attimo anche gli operatori chiediamo intanto il vostro nome Giovanni Ciao Laura Giovanni e Laura quali sono gli orari in cui è attivo questo servizio ovviamente lo diciamo a beneficio della popolazione dalle 8 del mattino alle 20 della sera Grazie allora sindaco intanto le auguriamo buon'estate l'auspicio è che possa non servire questo servizio intanto c'è intanto c'è ringraziamo l'aslo ringraziamo quindi buono buon'estate a tutti quanti e speriamo che il servizio del 118 serva il necessario o quantomeno possibile Grazie alla sindaco Elio Ciccarese grazie anche agli operatori io vi restituisco la linea Grazie grazie Anna noi continuiamo con le notizie della Tg di Brindisi e parliamo di abbandono incondizionato di rifiuti nell'agro di Francavilla Fontana giro di vite da parte dell'amministrazione Denuzzo Abbandono selvaggio dei rifiuti nelle campagne di Francavilla Fontana l'amministrazione Denuzzo ha dichiarato guerra ai furbetti che non rispettano le regole nella seconda metà di luglio dopo l'invenimento di rifiuti di ogni genere il sindaco ha annunciato significative novità sintetizzate il 31 luglio nell'ordinanza 275 con cui si forniscono indicazioni utili a tutti soprattutto agli utenti che fanno l'orecchio da mercante i bidoni presenti nelle contrade ad esempio sono ad uso esclusivo dei residenti nell'agro la fascia oraria di conferimento va dalle 5 alle 18 il conferimento dell'organico dovrà avvenire utilizzando sacchi biodegradabili ancora la violazione delle disposizioni è soggetta a sanzione amministrativa sino a 500 euro e poi l'abbandono dei rifiuti è un reato punito con ammenda da 1000 a 10.000 euro e in caso di rifiuti pericolosi la sanzione è raddoppiata quella è un'ordinanza che ho emanato per mettere come si dice in questi casi per mettere a sistema alcune norme che già preesistevano e per introdurne di nuove però l'obiettivo è questo scoraggiare sia l'abbandono dei rifiuti che come hai detto tu all'inizio di questa chiacchierata è un mal comune ma non un mezzo gaudio ma anche scoraggiare il fenomeno di quanti vanno a conferire nell'agro pur non essendo residenti e mi sono calato con quella ordinanza in una prospettiva di territorio perché lo dico in una maniera molto educata perché abbiamo scoperto che molti cittadini non residenti a Francavilla lo abbiamo scoperto aprendo le buste con gli operatori del gestore del servizio e con la polizia locale approfittavano o continuano ahimè ad approfittare delle dimensioni molto vaste del nostro agro per venire a gettare qui Dopo due mesi di attesa è inaugurata a Brindisi la statua di Gandhi Fabrizio Caglianella Un appuntamento con la storia la storia della città per rievocare la presenza a Brindisi del Matma Gandhi sulla via di ritorno da Londra in India nel 1931 lungo la valigia delle Indie via la gabbia protettiva dal busso che raffigura Gandhi dopo quasi due mesi di attesa la statua donata dall'India al comune di Brindisi è stata finalmente inaugurata Questa statua doveva essere inaugurata il 13 giugno in occasione del G7 dal Premier indiano e data la situazione di grande attenzione per l'ordine pubblico in quella occasione ci fu sconsigliato dagli organi preposti di fare iniziative che potessero in qualche maniera portare qualche disturbo all'organizzazione complessiva del G7 per il resto oggi l'ambasciatrice delegata appositamente dal capo del governo indiano viene qui a inaugurare insieme a me questa statua che è un grande simbolo di pace che abbiamo voluto accompagnare anche con la installazione la piantumazione di alberi di olivo che sono altrettanti simboli di pace come lo è la figura del Mahatma Gandhi che è un'icona di pace e di non violenza del mondo sono solo due le città al mondo che hanno beneficiato della donazione l'altra statua si trova a Hiroshima luogo martire simbolo del desiderio di pace e dell'umanità tra India e Italia ci sono delle buonissime relazioni Gandhi viene rispettata come figura iconica diciamo dalla cittadinanza italiana e Gandhi diversi anni fa passò da Brindisi per imbarcarsi per l'India crediamo che oggi il messaggio di Gandhi della pace della non violenza del rispetto dei diritti umani sia un messaggio realmente attuale di cui c'è bisogno ed ora vedo già pronto il collega Davide Cucinelli da Mesagne ha seguito la prima gara vinta Davide Dell'Aquila campione di Taekwondo che vuole andare a riprendere o meglio a confermare quello già vinto nelle precedenti Olimpiadi allora buon pomeriggio Davide sì c'è grande entusiasmo ovviamente qui a Mesagne siamo con il sindaco Tony Matarrelli grande emozione una vittoria in rimonta per Vito Dell'Aquila che dà un segnale forte la prima è sempre quella più difficile da campione uscente ancora di più una grande prova di forza eh sì con un avversario ostico molto più alto di lui con un primo round perso però è emerso lo straordinario campione che è Vito all'ultimo istante ha ribaltato il risultato ed è già nei quarti questo è un motivo di gioia straordinaria qui c'è un entusiasmo incontenibile e noi veramente confidiamo nel fatto che Vito arriverà sino in fondo e ovviamente l'appuntamento per le altre gare fino si spera a quella di questa sera per il podio sarà sempre nello stesso punto grande comunità e risposta che c'è stata anche dai cittadini mesagnesi per vivere insieme queste emozioni siamo tutti convito siamo tutti fiduciosi e siamo qui perché diciamo idealmente vogliamo spingerlo alla conquista di una medaglia noi siamo convinti che ci riuscirà Vito è un grande veramente oltre ad essere un grande atleta è un ragazzo straordinario e li vogliamo bene legato alla sua comunità pugliese brindisina mesagnese lui è legatissimo a Mesagne viene in ogni occasione a trovarci mi aveva invitato a Parigi mi aveva chiesto di essere lì con lui e gli ho detto che non sarei andato perché volevo creare le condizioni di tre anni fa volevo stare qui per scaramanzia perché sono convinto che festeggeremo una medaglia vedremo di che colore ma la festeggeremo sono troppo convinto grazie al sindaco di Mesagne Tony Matarrelli noi seguiremo ovviamente il cammino di Vito dell'Aquila che ha vinto la sua prima gara negli ottavi di finale per i 57 kg di taekwondo si appresta ad affrontare il prossimo avversario ungherese e poi ovviamente continuare il cammino che come dicevamo prima ci si augura possa portare nella serata di oggi alle finali per il primo secondo posto o per il terzo una medaglia che ovviamente Vito dell'Aquila è il territorio brindisino e mesagnese vuole confermare anche in queste Olimpiadi l'entusiasmo è tanto l'avete potuto vedere anche dalle immagini trasmesse in sovraimpressione che abbiamo preso live proprio qui a Mesagne e che trasmette l'entusiasmo con il quale si seguiranno i prossimi incontri e che insieme seguiremo per dare il risultato speriamo vincente di Vito dell'Aquila alle Olimpiadi di Parigi grazie grazie a Davide Cucinelli noi giriamo la linea alla regia per un break tra poco con le notizie da Lecce Provincia trovare un equilibrio tra il diritto dei cittadini e la tranquillità e quello di giovani e turisti e lo svago nel rispetto delle regole questo è l'obiettivo primario della riunione tecnica di coordinamento che si è tenuta in prefettura a Lecce con i vertici provinciali delle forze dell'ordine sulle azioni di contrasto la cosiddetta Malamovida nel comune di Gallipoli l'amministrazione Polibortone è pronta a consegnare la Dastna di San Cataldo ma tuonano i consiglieri di Dellinoci è un lavoro di Salvemini non vostro la Marina Leccese di Torre Chianca è ormai lo spettro di se stessa tra serrande abbassate incuria e abbandono ben ritrovati Tg dedicato a Lecce e provincia trovare un equilibrio tra il diritto dei cittadini alla tranquillità e quello dei giovani e dei turisti allo svago nel rispetto delle regole è stato questo l'obiettivo primario della riunione tecnica di coordinamento che si è tenuta in prefettura a Lecce si è tenuta nelle scorse ore presso la prefettura di Lecce una riunione tecnica di coordinamento delle forze di polizia con la partecipazione dei vertici provinciali delle forze dell'ordine l'incontro ha avuto come obiettivo l'analisi delle misure messe in atto per garantire un efficace controllo del territorio con particolare attenzione alle zone costiere più frequentate dai turisti la riunione è stata convocata in seguito a un recente episodio di mala movita avvenuto nel fine settimana scorso a Gallipoli all'interno di uno stabilimento balneare di Baia Verde è stato sottolineato che i servizi di vigilanza e controllo condotti dalle forze di polizia e in collaborazione con i personaggi di sicurezza del Lido hanno portato all'identificazione e alla denuncia di otto persone coinvolte tra cui due soggetti destinatari delle misure di Dacur emanate dal questore di Lecce durante l'incontro si sono esaminati i risultati positivi ottenuti grazie all'attivazione di un dispositivo di sicurezza già sperimentato in passato e ulteriormente potenziato per la stagione estiva in corso questo piano prevede il dispiegamento delle forze dell'ordine inclusi reparti speciali come le squadre di porto intervento dei carabinieri il reparto prevenzione e crimine della polizia e le unità navali e cinofili della guardia di finanza insieme a rinforzi estivi provenienti da altre compagnie alla conclusione dei lavori è emerso l'importante impegno delle forze dell'ordine sia sul fronte investigativo che per la prevenzione e il controllo del territorio l'obiettivo principale di questa strategia è quello di trovare un equilibrio tra il diritto di cittadini a vivere in tranquillità e il diritto dei giovani a divertirsi sempre nel rispetto delle regole si è inoltre ribadita l'importanza di gestire i flussi turistici e la vita notturna con senso di responsabilità tutelando gli interessi degli operatori economici locali infine nel corso della riunione sono stati stabiliti ulteriori raccordi operativi tra le forze di polizia gli esercenti dei locali pubblici e l'amministrazione comunale di Ghellipoli per garantire anche nella corrente stagione estiva un divertimento senza eccessi prevenendo fenomeni di microcriminalità e garantendo l'ordine pubblico L'amministrazione Polibortone è pronta a consegnare la Darsena di San Cataldo ma tuonano i consiglieri di Delinucci è un lavoro di Salvemini non vostro dicono ed è polemica sentiamo L'assessore all'urbanistica Gianpaolo Scorrano ha comunicato con entusiasmo che la Darsena di San Cataldo riaprirà entro il 27 agosto un annuncio accolto con favore dalla comunità leccese questo progetto rappresenta un'importante opportunità per la città e i suoi cittadini dopo un lungo e complesso percorso che ha visto il coinvolgimento di diverse amministrazioni l'obiettivo attuale è quello di restituire l'opera alla città mantenendo la promessa di una riepertura imminente turnano però i consiglieri di opposizione con Antonio De Matteis Giovanni Occhineri Cristianioni Marco De Matteis Andrea Fiore che in una nota stampa scrivono è fondamentale riconoscere il lavoro svolto da coloro che hanno progettato e seguito alla realizzazione della Darsena sotto la guida degli assessori Alessandro Dellinoce e Marco Nuzzaci il progetto ha affrontato numerose sfide e ha finalmente preso forma è curioso notare come l'assessore Scorrano inizialmente scettico sulla possibilità di realizzare lavori di drenaggio durante l'estate oggi esprima soddisfazione per l'imminente apertura frutto di deroghi ottenute dalla precedente amministrazione la città di Lecce ha bisogno di completare le numerose opere programmate e finanziate evitando conflitti tra maggioranza e opposizione è essenziale riconosce i meriti di chi ha realmente contribuito al progetto di chi ha difeso l'iniziativa gli uffici che hanno gestito l'iter le imprese coinvolte e le amministrazioni che hanno affrontato le complessità burocratiche siamo impazienti di assistere per l'inaugurazione della darsena di San Cataldo continuano i consiglieri certo che avverrà prima del termine indicato in caso di ulteriori ritardi dovuti a problematiche burocratiche o normative non resteremo in silenzio ma ci impegneremo attivamente per garantire una rapida risoluzione e la restituzione dell'opera alla comunità concludono cambiamo decisamente argomento e parliamo di Torre Chianca che ormai è lo spettro di se stessa tra serrande abbassate incuria e abbandono ce ne parla il collega Pierandrea Fanillula cos'è che manca a Torre Chianca? manca tutto serrande abbassate ad agosto che raccontano di attività commerciali che ormai hanno esalato l'ultimo respiro incuria ad ogni angolo assenza di un bankmat di una farmacia e di tanto altro indispensabile per il vivere quotidiano insomma l'agonia di Torre Chianca mostra mortifere i suoi segni e gli ultimi pochissimi commercianti rimasti si guardano intorno interrogandosi sul futuro innanzitutto anche dalla ricezione dei turisti dalla ricezione dei turisti dall'incuria che c'è diciamo un pochino in giro già arrivando si può vedere benissimo non lo so proprio manca di tutto che ne so può mancare la fogna in certi punti dove anche tra parentesi c'è anche la mia la mia casa manca anche l'acqua la gente che viene non ha una piazzetta su cui andare non cioè noi dobbiamo metterci del nostro per poter tirare avanti infatti ho fatto organizzato due o tre serate per vedere di attirare di attirare un po' di gente ecco manca l'organizzazione come detto tu pure il campetto che è tutto distrutto abbiamo problemi di parcheggi abbiamo un po' di problemi per quanto concerne i servizi quindi bancomat farmacia pulizia beh sì la pulizia poco poco è migliorata non molto poco poco chiaramente se ci fosse un bancomat una guardia medica perché qui se si sente male uno praticamente può morire qua ci spostiamo ora a Corigliano dove il conservatorio Tito Schipa è andato in scena con Nabil Salame è una missione la considero una missione la considero una mia missione qui mi sono sempre sentito un ponte diciamo così un ponte tra questa civiltà tra questa parte del Mediterraneo e quella di fronte perché alla fine bisogna sottolineare quello che ci unisce quello che c'è comune quello che abbiamo condiviso lungo una storia millenaria da sempre il Salento è stata terra d'incontro di dialogo tra Occidente e Oriente proprio quello che hanno portato sul palco a Sogliano Cavur con la loro musica e le loro parole Nabil Salame e Fabrizio Piepoli un evento importante che ricade nella nostra stagione estiva è state ad ascoltare che è stato organizzato grazie alla regione Puglia quindi ringrazio l'assessore Sebastiano Sebastiano Leo ringrazio l'amministrazione comunale di Corrigliano nella persona del sindaco di Namanti perché siamo venuti qua a realizzare un bellissimo concerto in decentramento cercando di coinvolgere il territorio salentino in quella che è la molteplice attività del Conservatorio di Lecce io voglio ringraziare il Presidente del Conservatorio il Dottore Puzzovio e il Direttore De Bernhardt per averci dato la possibilità di ospitare questa sera questo interessante concerto sulla musica della tradizione del Mediterraneo io ritengo che la Puglia sia proprio un ombelico uno degli ombelichi più importanti del Mediterraneo anche perché qui sul palco stasera ci siamo io che rappresento la Puglia diciamo di nascita come sono i miei Natali e Nabil che è un palestinese libanese nato in Libano adottato ormai italiano a tutti gli effetti sono più gli anni che ha vissuto in Italia che quelli che ha vissuto nella sua patria una partita tra i più piccoli organizzata è promossa dalle due associazioni delle Marine Leccesi insieme per Spiaggia Bella e Amici di Torre Chianca vediamo si svolgerà sabato 10 agosto a partire dalle 17 l'amichevole calcistica tre bambini di Torre Chianca e Spiaggia Bella l'evento promosso dalle associazioni insieme per Spiaggia Bella e Amici di Torre Chianca rappresenta un seme di speranza per provare a salvare le due Marine Leccesi che da anni ormai conservano solo il ricordo degli antichi fasti stiamo continuando con quell'impegno che ci siamo posti fin da novembre dell'anno scorso quando ci siamo costituiti per aggregare le persone abbiamo organizzato qui a Torre Chianca abbiamo supportato più che altro un gruppo di genitori per consentire ai propri bambini di effettuare delle partitelle su questo campetto qui a Torre Chianca una sfida sostanzialmente tra i bambini di Torre Chianca e quelli di Torre Rinà e quelli di Spiaggia Bella proprio per aumentare l'aggregazione andiamo avanti con i fatti e cerchiamo di contribuire chiunque cercando di ripristinare questo campetto che ne vale veramente la pena per dare il supporto alle associazioni che hanno organizzato questo e noi privati cittadini aiutando per quello che possiamo la decisione di questa partita è anche quella per ripulire l'unica struttura presente in queste Marine sì, sulle associazioni di Torre Rinalda Spiaggia Bella e Torre Chianga si cerca un attimino visto che è l'unica struttura possibile per fare questo tipo di aventi cerchiamo un attimino di poterla ripristinare nel miglior modo possibile ma questo non può essere solo a carico dei cittadini normali ma bensì qualcuno la persona preposta dovrebbe vedere e prendere le giuste misure torniamo a parlare di degrado e di abbandono raccontandovi della fontanella di via Marconi faccio un appello all'attuale amministrazione sicuramente più sensibile di quella precedente restauratela per favore un vero e proprio mini monumento che a suo modo racconta la storia di Lecce di quando una parte dell'attività commerciale del capoluogo Salentino si svolgeva ai piedi delle mura del castello di Carlo V La fontanella di via Marconi come denunciato dall'eccese Angelo Benedetto ora è in stato di quasi totale abbandono mantenendo solo un triste e sbiedito ricordo di quello che è stata Io ricordo qui quando era il centro commerciale di Lecce in quanto c'era la piazza coperta questa fontana che poi secondo me è un monumento storico non è una fontana ma è un monumento rappresentativo della città di Lecce e qui questa fontana serviva a far bere migliaia e migliaia di persone per diecine e diecine non dico secoli ma diecine e diecine di anni vederla ridotta in questa maniera mi si stringe il cuore qui poi c'era un qualcosa che un motivo di decoro molto bello il colore non era questo ecco anche la griglia spezzata e mai più riparata si potrebbe secondo me farla ritornare alla vecchia gloria con poca spesa però si salverebbe quello che io ritengo essere un monumento della città di Lecce al pari di Santa Croce al pari dell'anfiteatro al pari di tante altre monumenti più blasonati ed era questo il nostro ultimo servizio grazie a tutti per l'attenzione e arrivederci rimani connesso scarica gratuitamente dagli store o tramite QR code la nuova app di Antenna Sud più veloce e con più funzioni per essere aggiornato in tempo reale sulle news di Puglia e Basilicata seguire in streaming i nostri programmi o rivederli on demand da qualsiasi dispositivo grazie a tutti